Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nikoingame Abbiamo appena sbloccato un nuovo potere Il rispiro del destino Che ci consente di Zacchete E zacchete E muri Guarda Principe Con questa acrobazie pericolose Che ci consente di sferrare un potente attacco a terra Che spazza via tutti i nemici nelle vicinanze Poi appena ne avremo occasione ragazzi lo proviamo Magari nelle situazioni un po' più critiche Siamo di nuovo nel presente Mo' ci tocca Rifarci tutta la strada a ritroso Attacciatalo Ora Merda Scappa Finchè Sto spettando La La Stai calmo Guarda Non così ogni tanto Niente Aspetta Ma porca miseria Ma che fai? E dai Ma certe volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua eh Chi c'è? erca Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Adesso Scusate ragazzi Ma devo capire Dove devo andare Penso per di qua Ma non ne sono sicuro Per di qua E' cresciuto un po' di vegetazione Ok Guardate questi che mi aspettano Mezzo Berta Oh queste qui non le ricordavo Ma sono le ninja invisibili Ma sono le stesse Però invisibili Ragazzi Ma Marda Cavolo Sto andando giusto Che silenzio Oh no Non è così Porca A volte ragazzi La prospettiva Non aiuta affatto Dai Ok Possiamo salvare qui Non ho male Chissà Che fine ha fatto Il Duck Nooo Basta, basta Dove va? Dove cazzo vai? Beh Sì, vabbè Sì, vabbè Fermi Ma è giusto? Sì Sono io che mi sono lanciato troppo presto Eh, vabbè Non sono qui Ma porca, porca Non sono qui per farti del male Ma va Sei qui per darmi un bacino, vero? Questo dolore è subito E dai, merda Non mi piace Prendi questo Era Benissimo evitabile questo scontro Ragazzi Infatti ho perso inutilmente un sacco di salute Spero di trovare al più presto un'altra fonte d'acqua perché Altrimenti siamo dalla cacca Non è alla mia altezza Non posso parlare al più Ma magari un'altra volta Ahem. Dov'è merda devo andare? Siamo arrivati da lì Dovrebbe essere giusto Sì Oh c'è una fonte d'acqua qua Curati principe Ehm... 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 Qui... Siamo sicuri? Bah Ho qualche... Ehm che cazzo Ho qualche dubbio ragazzi ma penso che la strada sia questa Ma... Un'altra fontanella? Ne approfitto Due fontanelle così vicine? Nooo... Così... 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 ... A posto Chi è? Sei solo tempo perso Non sai che le donne non vanno... Ehm... 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 Arrivederci... Ciao... Sono nel posto giusto ma al momento sbagliato... Ah... Devo tornare nel passato se voglio attivare questa torre... Ciaooo... Carissimo... Ok... Dobbiamo tornare nel passato... Ma ci arrivo... Ho queste imboscate eh... Ehm... Ma non c'è niente qua... Ah e c'è qualcosa... No! No! VB 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 che poi io devo andare da tutt'altra parte ma vabbè abbiamo preso il bozzetto non sapevo neanche che c'era un bozzetto lì è stato un caso fatti so ma eccolo qui il da cacca ah oh merda mazza oh che trambatta via attenzione scendi no 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 morti lo sento sta avvicinando vabbè fermatelo prima che vada oltre mazza oh è vicinissimo corri corri oh dai che ci siamo dai che ci siamo dai che qui siamo al sicuro ok qui non ci passi non ti piace l'acqua straz uff vabbè facciamo una cosa dai torniamo nel passato guarda te guardate sarà questo sì oh una nuova scorta di sabbia perfetto ok siamo nel passato dove tutto è bello nuovo io salvo dobbiamo tornare dove eravamo prima per mettere in funzione quella zona però magari ragazzi lo facciamo nel prossimo episodio a voi come sempre fatemi sparare la vostra lasciate un like condividete iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti